144 persone denunciate, 41 scariche abusivi individuati e 36 aziende sequestrate. Questo è il bilancio delle attività effettuate negli ultimi sei mesi dai carabinieri del Comando Unità Forestali contro l'abbandono di rifiuti e sversamenti illeciti nel bacino del fiume Sarno. I carabinieri del gruppo per la tutela ambientale di Napoli, con i dipendenti dei nuclei operativi ecologici di Napoli-Salerno e dei gruppi carabinieri forestali di Napoli, Avellino e Salerno hanno proseguito nelle ulteriori verifiche di opifici situati nell'Alto, Medio e Basso Sarno procedendo a numerosi sequestri di aziende responsabili di illecito smaltimento di rifiuti e scarichi non autorizzati di acque reflue industriali come accertato dai militari con la collaborazione tecnica di personale dell'ARPAC sotto il coordinamento delle procure di Avellino, Nocera Inferiore e Torre Annunziata Nel corso degli ultimi sei mesi, dalla fine del lockdown, i carabinieri hanno controllato 264 attività produttive denunciato 144 persone, individuato 41 scarichi abusivi, effettuato 36 sequestri tra aziende o parti di esse ed elevato 57 sanzioni amministrative per un importo pari a circa 225 mila euro Ecco Grazie.